Il partito Ienco che mette la palla per Procopio, Procopio solo davanti al portiere, Stagliano! Andrea Stagliano festeggia il suo compleanno al 34esimo minuto con Procopio che a questo momento caratterizza la partita. Il colpo di testa fa partire Procopio, Procopio davanti a Morabito, Salvatore, Procopio! Siamo nella nuovissima sala stampa qui al Frabotto Mannis di Montepaone e io sono emozionato perché oltre a mister Leone c'è anche l'amico Mimmo Toscano al quale cedo il microfono con piacere per l'intervista al mister del Branca Leone. Ciao Mimmo e benvenuto! Grazie, ti ringrazio per le belle parole, è un onore essere qua con voi. Allora, mister Leone, partita che nasce benino però poi piano piano si trasforma in un'ecatombe. Se mi permette, penso che la chiave di volta sia stato l'infortunio di Genova che ha fatto saltare tutti gli equilibri tattici. Appunto, prendo spunto da questa tua considerazione per dire che è una partita iniziata male e finita peggio. Noi già eravamo in ambascio, poi l'infortunio di Genova ci ha condizionato ma nonostante tutto tenevamo il campo discretamente contro una squadra che gioca bene anche a calcio. Abbiamo tenuto il campo bene, abbiamo tenuto, poi un po' per le nostre deficienze che abbiamo attualmente in organico e abbiamo fatto due errori e due errori ci hanno castigato su quei due errori. Ripeto il concetto, una partita che è iniziata male ma è finita peggio. Ma male si riferisce per l'infortunio di Genova oppure i ragazzi non hanno seguito quelle che erano le indicazioni preparate in settimana? No, assolutamente, assolutamente, per il problema che Genova ci ha creato, perché noi già siamo, già eravamo in emergenza. Genova ha ancora complicato le cose, assolutamente. I ragazzi, come ripeto e sottolineo, io non sono dispiaciuto perché hanno tenuto il campo discretamente. Poi quando abbiamo qualche esigenza di far giocare qualche ragazzo che è fuori condizione, come quel ragazzo che ha fatto bene fin quando ha tenuto. Poi c'è stato un momento che ha avuto un calo atletico, mi riferisco a Cuzzilla, che ha avuto un calo atletico e abbiamo pagato. Purtroppo non avevamo neanche le sostituzioni ad hoc per poter fare qualche cambio e abbiamo pagato questo. Poi il secondo gol, anche il secondo gol è stato un infortunio su un incidente, anche quello. Ci è costato il secondo gol. Però io devo dire, i ragazzi hanno tenuto bene il campo contro una buona squadra che io già sapevo e stavamo bene in campo e abbiamo avuto anche qualche nostra occasione. Avremmo dovuto avere un po' più di calma e tranquillità nelle conclusioni. Cosa che non abbiamo avuto, ci è sfuggito un attimo di mano magari la voglia di fare e questo sicuramente io ne do atto ai ragazzi che non ho nulla da rimproverare perché chissà, chissà, sa come siamo in questo momento in emergenza. Giusto per concludere, è stata quindi una maggiore determinazione a volontà di vincere del Monte Paone rispetto al Brancarone di avere la meglio sul finale? No, questo non mi ha sorpreso perché io mi aspettavo questa partita e mi aspettavo la determinazione del Monte Paone. Questo non mi ha sorpreso. Il problema è stato tutto nostro su quei due infortuni che noi abbiamo avuto. Per non parlare, ripetiamo, sembra trovare una giustificazione ma chissà, chissà, sa, l'infortunio di Genova è costato parecchio, è costato nell'economia, è costato molto, molto. Comunque questo non voglio dire, il Monte Paone me l'aspettavo così, ha giocato bene in merito al Monte Paone che ha vinto la partita. Mister Pisano, una vittoria importante perché ottenuta contro una squadra forte. Forse la svolta è stata l'inserimento di Virgilio che ha cambiato tatticamente la partita. No, no, non credo sia stata quella la svolta. Credo che i ragazzi abbiano fatto tutti una grossa gara contro una squadra importante. Noi sapevamo che comunque loro erano una squadra di alte classifiche, una squadra ben messa in campo, con grande individualità. Quindi ho chiesto grande attenzione su delle cose che sono state fatte fortunatamente bene. Credo che il cambio abbia dato semplicemente un po' di corsa in più in mezzo e Roberto ha fatto bene come aveva fatto benissimo Marco fino a quel momento. Quindi direi che la squadra ha meritato la vittoria perché è riuscito ad avere una continuità di gioco in questa partita con una squadra di alta classifica. Quindi è nell'ennesima dimostrazione che questa squadra se la può giocare con tutti. Mister, mi consenta, dopo una vittoria e dopo un gol i giocatori del Monte Paone vanno a salutare Gregorio Vatrella. Andiamo insieme perché qui in la sala stampa c'è l'immagine proprio di Gregorio, come se festeggiassimo per un gol perché è stato importante. Facciamo impazzire anche il nostro cameraman. Comunque complimenti per questa nuova sala stampa. I complimenti vanno fatti alla società che ha consegnato questa nuova sala stampa, sala video, che ci permetterà comunque di aumentare la qualità del lavoro che si fa qua a Monte Paone. Quindi credo che sia sempre un mattoncino in più che si va a mettere sul lavoro che è partito da molto lontano e che forse proprio la partita di oggi ci ha dimostrato come siamo cresciuti tutti insieme. A noi manca Gregorio ovviamente, quindi noi l'unica cosa che possiamo fare è ricordarlo sempre. La società lo fa puntualmente, i ragazzi lo fanno senza neanche parlarci perché basta guardarci negli occhi quando si parla di lui. Quindi non c'è assolutamente niente che ci deve distogliere il pensiero da quello che è il lavoro comune che abbiamo fatto in questi anni.